Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una reaction a Sertab Erener con la canzone Ask. Non la conosciamo, sappiamo però che ha vinto l'Eurovision qualche anno fa, infatti dopo magari andremo a vedere anche la canzone con cui ha vinto, perché non la conosciamo. È la versione acustica questa canzone, quindi siamo curiosi di vederla. Bella voce. Ha una bellissima voce, veramente bella. Mi piace, mi fa un po' più basso e un po' più rocca. Però è bella. Ma molto molto bella. Aşk bis l'iften Gel, gir, dunyama Wow, ok. No, no, no No, no, no Non ho pensato anch'io, cavolo Cioè, brava, cavolo Perché so che comunque per cantare così in piedi è comunque meglio che... Non lo so, non sono esperta Però comunque... A me dà l'idea almeno che sia più facile cantare da in piedi Esatto Va, va, va Poi sono curiosa di sentire la versione non acustica Perché questa è veramente bellissima Mi piace un sacco, veramente Sì, 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 bellissima Poi con tutti gli strumenti Cioè... Ma infatti quello che mi colpisce di questa cantante È che riesce a mettere in mostra le sue doti canore Ma ha comunque creato una canzone estremamente orecchiabile Cioè io l'ascolterei in macchina e mi metterei a cantare a scorciagola Nel senso comunque è una canzone dove lei è bravissima Ma in realtà anche proprio la composizione è molto molto interessante Magari è più nelle mie corde Però è proprio... Nonostante la sua modalità di canzone un po' lirica Ci sta benissimo, la trovo molto attuale Bravissima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti